Ancora devastata dal crollo della palazzina di via Rampa Annunziante, Torre Annunziata è sì una città distrutta e sotto shock, ma anche affamata di verità. Come lo è Don Ciro Cozzolino, il parroco della Chiesa della Trinità, che chiede ai responsabili della tragedia di parlare prima ancora che la magistratura faccia luce sulle vendite all'asta e sui successivi acquisti di quegli appartamenti, finiti in polvere, pietre e morte. Da un punto di vista umano si può sbagliare, si possono fare errori di valutazione, si possono fare errori di prospettive, quindi scegliere non il bene, ma scegliere il male. Riconoscere a questo punto il proprio errore sarebbe molto onorevole. Ci sono otto morti, ci sono diverse famiglie che soffrono, c'è una città addolorata, quindi chi ha commesso degli errori, riconoscerli. Prima che la magistratura faccia il suo corso sarebbe un modo per riscattarsi. Intanto ieri sera in via Gino Alfani un flash mob organizzato dagli Ultradel Savoia per ricordare gli otto angeli volati in cielo morti a causa dell'illegalità. Un minuto di silenzio, poi palloncini bianchi, striscioni e otto lanterne volate su in cielo, una per ogni vittima. Questa mattina in via Gino Alfani restano gli striscioni, quelli dinanzi ai quali ognuno si ferma per lasciare un messaggio per le vittime. Un piccolo gesto, un pensiero, un semplice saluto rivolto a chi non c'è più.